ben trovati ben trovati con una nuova puntata di un caffè con la nostra rubrica che quotidianamente ci consente appunto di scambiare quattro chiacchiere e qualche opinione con alcuni tra i principali protagonisti appunto della vita politica marchigiana oggi abbiamo con noi il senatore Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione ben trovato senatore eccoci sì, diciamo sento lontano però eccoci mi congratulo con lei perché insomma il governo le ha confermato questo luogo questo luogo di commissario quindi per il secondo anno consecutivo da parte sua a quanta soddisfazione c'è? ma la soddisfazione è data dal fatto che evidentemente il governo ha ritenuto di approvare l'operato del commissario Castelli del 2023 lo dico con soddisfazione ma soprattutto pensando a tutti coloro che sono stremati da queste lunghe attese che si sono frapposte alla realizzazione di quel diritto alla ricostruzione che sembrava quasi compromesso da false partenze che in qualche misura avevano esposto la comunità del sisma più di 500 mila persone 8 mila chilometri quadrati a rischio insomma di vedere compromessa quella che era la stessa esistenza del cadere quindi l'approvazione del governo mi spinge a fare di più meglio perché i piedi li manteniamo rigorosamente per terra però i dati ci danno ragione e ci incoraggiano a fare un 2024 ancora migliore allora quali saranno diciamo così gli aspetti più importanti da toccare quest'anno quest'anno la ricostruzione entrerà no effettivamente nel vivo senatore anche i sindaci del cratere ne sono ne sono sicuri ne sono convinti allora innanzitutto posso dire che già questa fase di una ricostruzione entrata nel vivo l'abbiamo già registrata nell'ultimo semestre del duemila del duemila venti 3 tanto è vero che abbiamo complessivamente nella ricostruzione privata liquidato alle imprese che lavorano giornalmente nei cantieri del sisma qualcosa come un miliardo e 300 milioni pensi è il più 73 per cento rispetto al duemila ventuno e il più 37 per cento rispetto al duemila ventidue quindi insomma la strada è quella tracciata nel duemila ventiquattro dobbiamo mantenere il ritmo se possibile aumentarlo e soprattutto fare in modo che ci si concentri su tutte quelle riparazioni che riguardano le prime case questo è il grande obiettivo del duemila ventiquattro ancora sono troppe le persone che hanno perso la prima abitazione quindi si trovano in regime di cassa no di contributo di autonomo autonomo assistivazione o addirittura nelle casette che ancora non hanno presentato il progetto non per loro colpa evidentemente ma perché magari tecnici si sono trovati a dover gestire tanto lavoro e tanto pratiche ecco per la privata mantenere il ritmo nel duemila ventiquattro aumentarlo se possibile ma soprattutto fare in modo che i progetti delle prime abitazioni siano perlomeno depositati per quanto riguarda poi invece la ricostruzione pubblica completare pensi un programma che per quanto riguarda l'intero gradere è di valore superiore al miliardo e mezzo e ci impegnerà nell'attivare circa 1500 cantieri di opere pubbliche questo vuol dire municipi questo vuol dire cimiteri questo vuol dire palazzi pubblici questo vuol dire anche a san meredetto da voi da dove voi state proponendo la trasmissione singoli interventi su edifici pubblici faccio riferimento a villa rambelli ad esempio e al vecchio municipio che pure sono stati registrati come lesionati in quei cinque mesi drammatici insomma un carnet ricco di impegni ma insomma non siamo spaventati siamo confortati anche dal bel clima istituzionale che si è creato intorno alla struttura commissariale il tutto senatore anche grazie ai tanti tecnici no che lavorano proprio nella struttura commissariale vedo ad esempio sulla sua pagina facebook che ieri c'è stata l'inaugurazione di un ulteriore ufficio speciale per la ricostruzione stavolta a castel raimondo dunque è un lavoro il suo che si basa parecchio no su questi usr dislocati un po in tutto il territorio del cratere si basa interamente su questi giovani spesso giovanissimi professionisti che stanno dando veramente dimostrazione di competenza ma anche di attaccamento alle istituzioni formare un professionista della pubblica amministrazione non è mai semplice soprattutto in questo periodo perché insomma c'è carenza però devo dire che la formazione che consente la ricostruzione predispone queste persone questi tecnici ad affrontare un'intera vita nella pubblica amministrazione anche per il tempo in cui sarà finita la ricostruzione da questo punto di vista il terremoto può essere considerato uno di quei fattori che porterà nel centro italia ad avere una pubblica amministrazione fatta di tecnici preparati e quindi potremo anche confidare nel futuro sul loro apporto e si sa che lo sviluppo di un territorio dipende anche e soprattutto da una pubblica amministrazione efficiente che non crea ostacoli inutili che si predispone ad accogliere quelle che sono le esigenze dell'imprenditore o della famiglia da questo punto di vista davvero l'inaugurazione di Cassarremondo è in questo senso anche se purtroppo noi siamo usciti da quella inaugurazione veramente con il cuore pieno di dolore perché è successa una cosa che ancora ci ottenebra la mente e il cuore il sindaco di matelica proprio dopo l'inaugurazione ha avuto un incidente caduto attualmente ricoverato a torrette la preghiera e il pensiero a massimo baldini uno dei 138 eroi di questa ricostruzione che purtroppo per una fatalità in questo momento ha bisogno della nostra preghiera per chi crede e comunque del nostro pensiero insomma scusate se l'ho detto la mattina no uno si predispone male alle cattive notizie ma una cosa che ci ha sconvolto anche perché ripeto siamo stati insieme con tanti sindaci della zona proprio della unione montana del potenza esino musone la parte nord del cratere marchigiano e quindi eravamo tutti insieme col presidente della commissione marinelli con il presidente acquaroli e insomma siamo ancora tutti molto sconvolti la vita è veramente tiranna e savara spesse volte però speriamo bene per massimo baldini assolutamente sì noi ci uniamo all'augurio senatore anche perché era una notizia che avevamo letto questa mattina in rassegna stampa e avevamo già insomma rivolto no il nostro augurio di pronta guarigione al sindaco di matelica senatore le volevo chiedere entrando maggiormente nel dettaglio della ricostruzione poi le volevo fare prima di salutarla anche una domanda sull'election day dell'8 e del 9 giugno la ricostruzione diciamo così per la ricostruzione lei confida molto anche sulla collaborazione dei sindaci no con i quali si sente eh quotidianamente e la vediamo eh quotidianamente in giro anche sui territori no senatore ogni giorno fa tappa in diversi comuni del cratere ecco quanto è importante la sua presenza sui eh territori presenza che insomma mi permetto di dire spesso e volentieri eh è mancata da parte di chi l'ha preceduta in in questo ruolo ma lei sa io sono stato sindaco quindi ritengo la vicinanza al destinatario della propria azione amministrativa un requisito fondamentale imprescindibile quasi una condizione no del corretto esercizio delle funzioni pubbliche o non senza fatica è applicato lo stesso principio al cratere nonostante le sue dimensioni ma sono convinto che si tratti di un aspetto decisivo perché dove non arriva la norma può arrivare il consiglio l'interessamento la condivisione la vicinanza i sindaci sono giorno per giorno costretti ad affrontare problemi che spesso sono superiori ai loro poteri e devono necessariamente raccogliere l'opinione la critica il pianto del cittadino ecco facendo le debite proporzioni io credo che la stessa cosa debba fare il commissario la ricostruzione perché vedete prendersi responsabilità stare in trincea in prima linea è meno difficile se si sa che alle proprie spalle c'è comunque chi consente di organizzare al meglio la propria azione così capita che telefoni il sindaco di l'ultimo stato valletara ieri eravamo a castellinondo a camerino stamattina sarò a teramo poi andrò ad ancona ad un convegno dei geometri applicati alla protezione civile e poi ancora mascerata torno ad ascoli insomma questo è il lavoro del commissario che deve tenere ferma la barra amministrativa monitorare l'andamento delle cose fondamentale monitorare perché la ricostruzione dico sempre è una creatura viva che si muove che protesta che recalcitra che ti assegonda perché è la realtà la ricostruzione è la somma della vita di tante tantissime persone ecco perché ritengo che questo diciamo atteggiamento orientato all'ascolto e alla vicinanza sia un pezzo della soluzione dei nostri problemi qual è il suo appello alla popolazione terremotata per questo nuovo anno che insomma è cominciato da nemmeno un mese continuate ad avere fiducia non siete abbandonati non siete soli non c'è un atteggiamento freddo e distaccato rispetto alle vostre problematiche rivolgo questo fra virgolette appello questa sollecitazione soprattutto a coloro che abitano nei posti più devastati e dove ancora la strada sarà lunga perché il cratere nella sua gigantesca estensione presenta comuni dove sostanzialmente la ricostruzione è partita è andata se voi frequentate alcuni ambienti alcune città lo vediamo io sono di ascoli lo sapete è tutto la gru siamo riusciti a imprimere veramente un cambio di passo non solo qui ma più in generale nel cratere meno danneggiato chiaramente è più difficile più complicato mantenere un atteggiamento di fiducia ecco nell'arquata che state evidenziando nel vostro filmato ma rispetto alla quale e potrei parlare anche di altri comuni molto colpiti le idee sono chiare stiamo adottando giorno per giorno le misure necessarie a fare in modo che finalmente la vita torni ad essere quella autentica e reale arquata la state facendo vedere ci sarà l'inaugurazione del palazzetto dello sport donato dalla croce rossa e poi ci sarà l'inaugurazione tra qualche settimana del nuovo comune che consentirà anche di ospitare il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco rurali insomma abbiamo le idee chiare la mia preoccupazione maggiore in questo momento è proprio la zona fosse del reatino della zona laziale a matrice accumuli dove nel tempo ahimè smarrito e perso è stato tanto e stiamo con l'ufficio speciale della ricostruzione del lazio cercando di serrare i ranghi perché lì si tratta davvero di riattivare l'immagine e la sostanza di quella che la città simbolo del terremoto quindi sarò molto nel lazio devo essere molto nel lazio perché questo è un obbligo morale prima ancora che politico allora so che deve partire per i suoi impegni e dobbiamo salutarla un'ultimissima battuta sull'election dei senatore l'8 e il 9 giugno si voterà per le europee e per le amministrative lei che fra l'altro è stato anche sindaco di ascoli per ben dieci anni insomma le chiedo cosa si aspetta da questa tornata elettorale a livello generale allora diciamo che in occasione dell'election day gli italiani saranno in buona compagnia perché il 70 per cento della popolazione mondiale voterà andrà al voto dall'america fino a quelle zone più sperdute comprese poi l'italia le europee tutto il nostro continente mi aspetto una grande festa della democrazia di professa per virgolette per riaffermare il principio che ha diritto di governare in santa pace nel rispetto di quelli che sono i principi della democrazia colui e colui o colei nel caso del premier giorgia meloni che ha i voti degli italiani la democrazia nasce dalla rappresentanza la rappresentanza è frutto della legge del numero e della volontà dei cittadini che sia quindi una stagione in cui viene riaffermato questo principio dove qualche anno dopo che per qualche anno diciamo si era un pochino smarrito e perduto questo elementare ma fondamentale principio grazie senatore per la sua disponibilità perché insomma non è scontato che riesca a dedicarci del tempo e in qualche modo però il tempo per noi lo trova sempre e questo ci rende anche orgogliosi grazie dovete essere orgogliosi in questo senso orgogliosi di dare sempre la voce a chi cerca di non far dimenticare l'importanza del cratere sono io che ringrazio vera tv che si distingue sistematicamente proprio per questa attenzione verso cose che dopo sette anni e mezzo potrebbero essere derubricate alla categoria minore e meno significativa delle notizie invece della nostra zona nella zona dove opera vera tv questa è la principale notizia perché è l'elemento centrale di un rilancio che stiamo costruendo anche per i vostri telespettatori e beh ma per chi come noi ha vissuto in prima persona la tragedia del terremoto recandosi no in quei luoghi già dalle prime ore dopo le scosse ha visto negli occhi della gente la disperazione insomma è impossibile no a mettere da parte l'argomento e quindi continueremo a tornarci grazie senatore buon lavoro arrivederci un saluto a tutti grazie di nuovo al commissario guido castelli che insomma comunque è riuscito a dedicarci questi minuti come d'accordo abbiamo dovuto liberarlo un po prima del previsto per consentirgli poi di raggiungere tutte le varie località che lui stesso ha elencato nel corso del collegamento insomma la sua giornata è piuttosto impegnativa lo è anche la nostra con tutte le nostre trasmissioni che vi aspettano io vi ricordo soltanto che un caffè con va in onda tutti i giorni tutti i giorni dal lunedì al sabato al mattino ovviamente a quest'ora alle 8 e 30 rigorosamente in diretta e poi ci sono anche le repliche alle ore e 14 da parte mia vi ringrazio per averci seguito saluto e ringrazio stefano partemi e francesco marconi oggi in cabina di regia per l'assistenza a tecnica e vi auguro appunto buon proseguimento con le nostre trasmissioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti